Ciao, noi siamo i Marie and the Sun, siamo due e veniamo dalla Spezia. Quest'anno per finanziare il nostro primo lavoro in studio abbiamo deciso di fare un crowdfunding e grazie ad Eppela siamo riusciti a fare questo crowdfunding e a ottenere anche il cofinanziamento di poste italiane, di poste pay. Grazie a questa campagna su Eppela siamo anche riusciti ad essere selezionati per aprire il concerto dei Sud Sound System a Gallipoli al poste pay Park Gondar. Ed è stata un'esperienza fantastica perché si trattava di un festival bellissimo nel pieno dell'estate con una quantità di gente che ci sogniamo. È un palco veramente prestigioso e che ha dato un'emozione fortissima. E quindi per questo, per questa bellissima esperienza vi ringraziamo, ringraziamo Poste Pay CrowdSound, ringraziamo Eppela per questa bella opportunità e li ringraziamo anche perché permetteranno al nostro lavoro, al nostro progetto di andare avanti. Quindi grazie mille e grazie anche a voi. Ciao! Ciao!